il numero 3 il terzo passo ci apre alla creatività e alle potenzialità siamo nel chakra del plesso solare che manifesta la volontà mostrandoci che la strada per superare la vergogna è quella di non prenderci troppo seriamente nei tarocchi la lamina dell'imperatrice rappresenta l'esplosione creativa l'abbondanza e la pulsione vitale se guardiamo alle virtù e ai peccati capitali della dottrina cristiana come archetipi al di là del precetto religioso patriarcale la virtù cardinale a cui si fa riferimento è la fortezza che infonde costanza e fermezza nella ricerca del nostro cammino mentre l'ostacolo suggerito dai peccati capitali è l'accidia quell'essere indifferenti pigre o inerti tanto da addormentare ogni emozione e annullare la volontà la domanda che rivolgiamo alle quattro mistiche è come ci poniamo nel mondo il carbone vivo è il terzo nome descritto da advec in cui la minne la signora amore infiamma lentamente gli amanti che si accendono per lei ed iniziano ad agire seguendo i suoi consigli i canti 34 e 43 mettono in chiaro cosa vuol dire mettersi al servizio della minne il regno a cui amore ci esorta e la carica che ci ordina di svolgere è praticare l'amore e null'altro con ogni servizio che ne consegue chi in fedeltà comprende come operare in tutti i sensi verrà tutta catturata dall'amore e un tutt'uno sarà nell'amore chi vuole essere perfetta abbia umiltà e in ogni sua possibilità rimanga umile e tutte le sue opere saranno buone e null'altro gli farà bene in tutto uguale nella forza nel successo perché mai ha successo in amore chi si attribuisce l'opera dell'amore in una delle lettere indirezzate alle sue sorelle adve esprime con chiarezza questo modo di agire ciò che tu ritieni che possa al più presto e nel migliore dei modi ricondurre la pace eseguilo buttarti ai suoi piedi e pronunziare parole di pace fare atto di riapacificazione nulla devi lasciare intentato né per tema di ire né di danni né di scorno se è vero almeno che tu vuoi dal divino che sia tuo amore e tuo sposo se orgogliosa tralascerai ancora questo ti troverai a molti mali passi di quanto puoi privarti privatene e di ogni cosa prendi appena quanto ti fa bisogno tienti al di fuori tanto umile che dio non abbia nulla a ridire sul tuo conto dopodiché dentro di te invece si tanto libera e tanto si ardita da protenderti ognora verso di lui in persona col cuore desolato e dolente per beatrice il terzo modo d'amare porta l'anima a uno stato di disagio e miseria per l'inadeguatezza e l'incapacità dell'essere umano di servire il divino e rendegli onore così come vorrebbe dice infatti beatrice grande è la sofferenza nel desiderio incessante di quel che non può ottenere questo compito di cui l'anima si prende carico è una sfida autoimposta ardua e infattibile ma il desiderio di incontrarlo è sempre più forte la manchevolezza e l'insoddisfazione del proprio operato la sprona a sopportare ogni pena e a lanciarsi con vemenza in qualsiasi azione d'amore la vita diventa un inferno e un tormento a cui solo l'energia divina può porre rimedio accompagnando l'anima verso la successiva forma d'amore il terzo stato di grazia per margherite è quello in cui l'anima per amore è chiamata alla rinuncia delle opere di bontà e perfezione che ama compiere iniziando a comprendere di non affidarsi alla propria volontà ma solo a quella divina per fare questo occorre agire in modo opposto alla propria volontà soprattutto per ciò che concerne il corpo è necessario imparare il distacco dall'io personale e prendere congedo dalle virtù l'appropriazione il possesso la pretesa del merito e del valore creano attaccamento d'amore spiega che tramite d'amore ragione le virtù chiedono obbedienza e rendono l'anima schiava quando l'anima si affranca e si libera di questo fardello senza pretesa di avere o di essere le virtù non sono più dentro di lei ma sono al suo totale servizio senza opposizione e fatica e se diventano fruibili interamente attraverso l'amore scrive infatti margherite tali anime hanno le virtù meglio che nessun'altra delle creature ma non ne hanno l'uso perché non sono affatto in loro come di solito erano e inoltre sono state asservite ad esse a sufficienza tanto da esserne affrancate d'ora in poi chi domandasse loro qual è il maggior tormento che creatura possa soffrire risponderebbero che è dimorare nell'amore ed essere nell'obbedienza delle virtù l'umiltà è la madre di tutte le virtù perché ci insegna a riconoscere il nostro legame con le necessità fisiche e con le circostanze della vita essa è quella sapienza che ci accompagna nella dolorosa ammissione della presunzione dell'ego e del valore che diamo a noi stesse ricordandoci costantemente che siamo fatte della sua stessa sostanza humus la terra se da una parte le necessità fisiche e biologiche ci rendono vulnerabili e finite costantemente bisognose di interazione con l'esterno e mancanti allo stesso tempo chi è umile e nobile perché tale riconoscimento porta all'eliminazione del superfluo al distacco e ad accettare che le necessità non possano essere trascese ma solo soddisfatte perché proprio in esse risiede la perfezione e la meraviglia della creazione la terra nell'umiltà riceve l'influsso celeste scrive ancora margherite quest'umiltà che è zia e madre è figlia della divina maestà e nasce dalla divinità la divinità è madre e antenata dei suoi rami i cui polloni danno tanto frutto ne taceremo poiché parlarne lì guasta è liberata da ogni servizio poiché vive di libertà chi serve non è libero chi sente non è morto chi desidera vuole chi vuole è mendico chi è mendico a mancanza di divino appagamento riguardo ai concetti di libertà necessità e umiltà viene immediato il parallelismo tra margherite e simone veil la quale afferma nei suoi quaderni la necessità il criterio supremo in ogni logica soltanto la necessità mette lo spirito a contatto con la verità per approfondire rimandiamo alla classe della scuola delle donne del 19 gennaio 2022 intitolata le mistiche della libertà seconda parte di cui viene lasciato il link in descrizione nelle terze dimore teresa de avila ci guida alla scoperta dell'illusione del giudizio come un vassallo che si immagina di essere entrato nelle grazie del re si pensa di essere nei favori divini per il bene che si crede di portare nel mondo quando per il re non è importante l'opera del vassallo ma il suo intento e la sua determinazione così le aridità e l'importanza personale portano ad illuderci sulla nostra essenza e a procrastinare nella via spirituale la ragione ci inganna e insinua in noi preoccupazioni e timori legati alla salute del corpo e alla realizzazione della gioia terrena fa eco ed it stein nel castello dell'anima ricordando che non siamo noi le protagoniste e le artefici del nostro cammino spirituale questa trappola è insidiosa perché non vi è alcun trattamento privilegiato per il servizio che prestiamo al divino come le altre mistiche anche teresa sottolinea l'importanza di agire nell'umiltà e nel servizio con opere che incarnino il nostro amore la nostra dedizione inoltre consiglia di tenere ben presente l'obiettivo per camminare veloci verso la meta distaccandosi dai diletti terreni e affidandosi alla volontà divina che opera per il nostro maggior bene per fare ciò è necessario imparare dai propri difetti visti da teresa come limiti autoimposti senza colpevolizzarci e senza interessarci di quelli degli altri inoltre teresa insiste sulla necessità di circondarsi di persone distaccate dalle cose terrene esercitandosi nella prontezza dell'obbedienza nei loro confronti ciò evita di esercitare la volontà personale e di ricadere nell'illusione servizio sacrificio e umiltà sono le tre parole chiave di questo passo e sono fortemente interconnesse il servizio è il dedicarsi senza giudizio e aspettativa a ciò che siamo chiamati a compiere il sacrificio è il sacrum facere il sacro fare ovvero l'agire con la consapevolezza che ciò che ci circonda è parte della nostra realtà e perciò necessita di essere trattato con onore e rispetto la terza l'umiltà risponde alla domanda che ci siamo posti all'inizio di questo passo rappresenta il modo di porsi nel mondo solo nell'umiltà si ha la possibilità di riconoscere il dominio della necessità e lasciare andare ogni attaccamento siamo bisognose perché siamo umane e non c'è nulla da temere o da vergognarsi per questo condividere e onorare i propri bisogni è la chiave che apre la porta verso il prossimo passo come dice simon veil l'umiltà è la radice dell'amore